In aeroporto ronchi dei legionari con il treno, obiettivo che entro il 2018 dovrà essere realtà in base a un accordo stipulato a Roma fra Rete Ferroviaria Italiana e Regione Friuli Venezia Giulia. Diversi punti e un consistente investimento per rendere il più moderno e fruibile il trasporto su rotaia nell'estremo lembo del nord-est. In questo accordo noi prevediamo investimenti per 2 miliardi e 600 milioni, il potenziamento della relazione con Venezia, solo è un progetto molto importante che vale 1 miliardo e 800 milioni e poi il ripristino per gradi della Sacile Gemona e poi tanti interventi nelle stazioni, alzamento dei marciapiedi, abbattimento delle barriere architettoniche. E ancora l'interconnessione fra i vari mezzi di trasporto, l'allargamento del servizio per chi voglia portare le bici in treno, le cortezze legate ai turisti in viaggio. Una parte dell'investimento è già finanziata. Stiamo parlando di oltre 400 milioni di euro complessivamente, naturalmente sono però da considerarsi come diverse fasi di progetti vari, tra cui metto anche la velocizzazione della Venezia-Trieste, il superamento dei passaggi a livello. Insomma abbiamo un punto che possiamo dire di partenza molto importante non solo nei rapporti con rete ferroviarie italiane, ma proprio per il miglioramento delle infrastrutture del nord-est e in particolare del Friuli Venezia Giulia. L'accordo mette in chiaro gli ambiti futuri di intervento e i tempi auspicati per la realizzazione di opere e servizi, attendendo sempre che si sblocchi a livello più generale la situazione che non ha finora consentito di velocizzare, in maniera strutturale, una linea trafficata come la Trieste-Mestre-Venezia.